Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo ad analizzare quella che è la top 16 del regionale di Francoforte che si è svolto la scorsa settimana perché voglio darvi qualche dritta per quanto riguarda i team che trovate in questa top cut la prima cosa che risalta all'occhio sono il primo e il secondo che ovviamente sono italiani primo Matteo Agostini che ho conosciuto personalmente in Toscana adesso Yuri Boschetto secondo, quindi una finale tutta italiana quindi tanta roba, bravi ragazzi vediamo subito il loro team perché Matteo Agostini gioca a Kyogre, Xernas, Tornados, Inserior, Amungus e Sarina quindi quel Kyogre io dubito fortemente sia Scarf in realtà penso che sia Modest con la Baccona e il Water Spout se non sbaglio ho già incontrato una tipologia di team quasi uguale molto buona perché hai Tailwind, hai di nuovo la possibilità di mettere la Rain hai il Taunt di Tornados, hai il Fake Out di Insineroar e hai altri due supporter di Kyogre Kyogre con accanto a Mungus fa davvero dei buoni danni certo un pochino debole a Tapu Koko questo team ma neanche più di tanto il secondo team di Yuri Boschetto che quindi è Graudung, Xernas, Cartana, Iatran, Insineroar e Venosaur è stato usato da Angel Miranda nel regionale di Philadelphia ed è uno degli unici team che abbiamo visto a questo regionale per bene anche in Europa ricordo che il metagame tra America e Europa è come paragonare il cioccolato con gli escreventi del mio cane perché in Europa i giocatori sono davvero forti, sono tutti preparati in America vediamo in top Kyogre e Veltalo, Kyogre e Veltalo, mentre in Europa non ci sogniamo neanche minimamente di avere questi in top ai nostri tornei più grandi tornando al regionale di Francoforte parliamo proprio di questi due team io non vi consiglio, meglio se volete provarlo provatelo non è male provare i team degli altri però ad esempio il team di Matteo Agostini io non ve lo consiglio perché secondo me è stato Matteo a essere forte non il team a essere forte è Matteo che magari sa già tutte le leading, sa già tutti i piani per quanto riguarda gli altri team voi non li sapete, se andate a provare questo team perdete quasi sicuramente per quanto riguarda il team di Yuri lo provo da un po' di tempo su Twitch domani ci rincherò per un bel po' due ore filate con questo team con Iatran Venusaur trovate l'ITT qua sotto che sto usando non è male, anzi è veramente forte quando uno si abitua poi a lidare ben bene è parecchio carino il problema è che soffre le speed control altrui quindi Crobat più Kyogre non fa bene oppure Kyogre più Cartana Tailwind non è bene non è bene in totale nella Topcat comunque abbiamo 7 Xernes Graudon 3 Xernes Kyogre e poi 6 diversi diversi quindi X, abbiamo Appa con Kyogre più Rayquaza abbiamo Kyogre Necrozma un Graudon Hoho che è un po' strano però ci sta un Hoho Kyogre un Hoho Sol Galeo che non ho ben capito di Eric Rivas Eric Rivas gli piace sempre essere originale e finisce sempre quando ho fatto a Potto è sempre Ottavo quando ho fatto a Potto è sempre 16 quindi questi sono i team se vogliamo andare a vedere la usage di questo torneo nella Topcat abbiamo 93% di Insineroar quindi solo uno non ce l'aveva il 68% di Xernes il 50% di Graudon il 43% di Cartana che è fortissimo il 37% di Kyogre Ludicolo il 25% di Amungus e Smirgol poi vabbè andiamo giù Iatrano, Coco, Venusaur e tutti gli altri quindi vi invito a guardare esclusivamente queste di risultati di team list di Topcat perché se voi andate a vedere cosa si gioca in Taiwan in Taiwan in Taiwan giocano Kyogre Veltal Lele e poi qualcosa a caso quindi non sempre prendere informazioni ovunque è una cosa positiva magari io il prossimo il prossimo team che vi devo portare quello del giveaway è proprio Kyogre Veltal probabilmente porterò uno molto simile però ecco ragazzi ho bisogno che vi teniate molto tutto sull'Europa Europa, Europa, Europa l'America cacca Giappone gnie gnie Taiwan cacca 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 l'Europa è il miglior paese da cui prendo informazioni è stabile è solido ci sono i giocatori che non giocano a caso o giocano team storti solo perché si e come vedete c'è una continuità c'è già una struttura del metagame è un metagame molto strutturato abbiamo già gli archetipi Xernes Graudon Xernes Kyogre e sono i più forti il resto ben dopo quindi io vi rimando a domani mi raccomando su Twitch che provo il team con Iatran di Yuri e niente ci vediamo molto molto presto grazie dell'attenzione grazie a tutti